Il lunedì prossimo si aprirà la discussione sul bilancio e sulla legge collegata al bilancio che quest'anno si presenta come un lungo vagone di altre leggi che la Giunta e la maggioranza non è riuscita a portare a termine e quindi vorrebbe caricare e prendere al volo questa opportunità. Sta diventando questo collegato un mostro e invece di fare la riforma delle IPAB, delle case di riposo e sappiamo quanto sia necessaria, si inserisce un articolo che diventa un'ulteriore complicazione per questi soggetti che hanno in carico tanti i nostri anziani. E per esempio lo stesso discorso vale su questo altro articolo con cui si vuole rivedere completamente il parco dei Colli Eugani invece di approvare una buona legge sui parchi. A partire da queste due, ma non solo queste due, noi intendiamo aprire un confronto molto serrato con la maggioranza perché non può diventare un treno merci questo collegato alla finanziaria.